Siamo arrivati alla fine di questa campagna elettorale, che è stata una campagna elettorale bellissima, che ci ha dato tantissimo calore. Io sono molto felice dell'opportunità che ho, spero che riuscirò a rappresentare il nostro bellissimo territorio di base perché lo amo e soprattutto perché sono stanca di vederlo abbandonato. Quindi sono felice che finalmente il 12 e il 13 febbraio la provincia di Viterbo avrà l'opportunità di portare un cambiamento in Regione Lazio. Allora, è vero, ci sono tantissime cose che non vanno bene, ma io credo che ci vuole anche il coraggio di cambiarle. Voglio condividere una citazione che mi viene spesso in mente, che è di Gandhi e dice che l'uomo può uccidere un fiore, ne può uccidere due, ne può uccidere tre, ma non arresterà la primavera. Detto questo, io credo che tutti questi anni di malgoverno hanno sicuramente tolto dignità il nostro territorio, ma non hanno assolutamente arrestato il nostro desiderio di riportare un buon governo alla Regione Lazio.